Hola, io sono Marcus Grone e bentornati nella Gandalfcraft Dopo esserci armati, protetti e tutte cose, signori, finalmente diventiamo dei magi Vieni qua, diventiamo dei magi, vai così La potenza magico Effetti particellari fighissimi Pim Abbiamo il nostro libro arcano E quello argatto? Non c'è, mi dispiace Allora, riprendiamoci i comodi blocchi che abbiamo usato E prendiamo un po' di questo liquido Metti che ce potesse da servire E andiamo a scoprire insieme l'Horse Magica Mod Che davvero, 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 davvero non conosco Come tutte le mod nuove Prima di passare a ciò, volevo farvi vedere questa pseudo-automatizzazione della Smeltery Stavo lì pensando, mentre squagliavo i nostri materiali, dicendo Oh, ma che palle, ogni volta devo andare a cliccare Allora ho messo un hopper Quindi, e ho fatto il cast del coso L'hopper che fa, prende il nostro lingottozzo, lo porta qua dentro E, bello, figo, ok Però comunque ogni volta ci devo cliccare E ora, prima di poter fare il timer della... con gli hopper Perché non ho i comparator Ho fatto questo qui che è settato Preciso, preciso, preciso Guardate Pim, pam Per fare un lingotto Quindi noi possiamo buttare qua dentro tutte le cose Attivare questa bruttezza incredibile La volevo fare sotto terra ma c'erano delle altre cose E lui ci farà i lingottozzi nostri Chissene, è bellissimo Oh, qui ha lisciato, come mai? Perché ha lisciato? No, no, no Ma hai fregato Avevo decantato le tue lodi Prima funzionavi Forse con l'ora è più lento Perché col ferro funzionava Allora, comunque, non è un problema, eh Come vedete funziona benissimo Allora, vediamo un po' il nostro libro magico Using this compendium Bla 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 Intralinked, non so che cos'è Ehm No, così Poi, The Ars Magica Qua, 6 Sarà 6 questo Ehm Anytime in the command G-g-g-b-b-v No Ah, sì, bellissimo questo Aspettate, aspettate Amu A-m-u-i-c-config Vabbè, sarebbe A-m-u-i-config Guardate che figata Ti sposti la gui come ti pare È davvero, davvero fatto bene È davvero, davvero bello Comunque Andiamo a vedere Your first spell Ok, create an oculus And an inscription table And crafting altire Ok Quindi oculus Oculus No Oh, come cazzo era scritto oculus O-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Lo stesso Ah no che stupidone Che stupido bambino Dovrei avere del vetro No Accipuffa Oserei dire accipuffa Prendiamo della sand E mettiamo la che E ci facciamo un No questa è una chest Ci facciamo un bel pezzettozzo di vetro Infine voleva del coal E il topazio blu Il topazio blu dovremmo averlo trovato E infatti eccolo qua Prendiamoci due coal Prima che sia troppo tardi E visto che ci stiamo Prendiamoci anche il vetro Vediamo se da funzia Con questa retype Ah la 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 Sì ecco qua Il nostro oculus Pim Oh ma che bello A che cazzo se Wow Ma è bellissimo Allora io adesso ho tre punti Quindi posso prendere il proiettile Il self Che non so che cazzo è Oppure il touch Boh Andiamo sul banale E prendiamo il proiettile Voglio un proiettile gravità Psychic damage E bones Non saprei Mi prendo psychic damage E mi manca un puntarello Fire O Magic 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 Ok ho questi Questi cosi qua Adesso Che diceva il mio ciccio Diceva Inkscription table Oh è ergonomica sta mod Inkscription table Eccolo qui C'è questa pergamena Che si fa Ah ma si fa molto facile Una penna Gli slab Ottimo 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 Mi piace Mi piace Mi piace Ed è finito Di lingottare Due stick Una penna Non ho torce Prenderò quest'altro stick E farò Beh Ah no Questo qui è lo stick Della Della tinker Prendiamo quindi Del Del legno Eccolo qui Poi ci serviva La carta Fare la carta Ci vuole Una di queste Come al solito Non è cambiato niente A bello da casa Spadum Spadum Siamo fortissimi Siamo una squadra Fortissimi No no Mettiamo Ad appendersi Che poi diventerà Commestibile Stavo dicendo Ah si Dobbiamo Dobbiamo Fando Un po' di Di pepa Beh 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 Avete rotto il cazzo Davvero eh Beh Basta Ok E facciamo La nostra pergamena Ne facciamo tre Che sono le cose Che piacciono a me Poi ci mettiamo Qui Questo Qui la piuma Giusto Dico bene o dico esatto Questo non funziona La fangulash Quindi ricominciamo E poi con del legno Oh eccolo qua Facciamo Gli slab Pela E il legno normale sotto Pim pim Piti pim Eccolo Ma è bellissimo Ma è davvero molto bello Io ando a dormire quasi quasi Posso andare a dormire? Yes You have locked The secret of dark Dark Ecco qua Adesso mi sento più sicuro Lo mettiamo Lo mettiamo Lo mettiamo Qui Qui Un po' storto Devo Devo dire Non riesco a romperti A stronzi Sapete che vi dico Regà Noi abbiamo un piano superiore Che non vedo Il perché Del non sfruttarlo Quindi riapriamo qui i battenti Salve Se va a buca E facciamo un pochino Di 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 Per fare le Cacchius Di Scalem Bene da 3 Io ne voglio 6 Eccoli qua Basta così Dunque 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 È un po' uno spazio ristretto Ma ce lo faremo bastare Io ti voglio mettere Così Ottimo E dov'è il mio Oculus Ok Sbrem Posso fare un incantesimo Allora Ci metto Il proiettile E ci metto Ma non l'ho preso Physic Ci metto Tutte e due Ah e poi ci va Un libro Attenzione Fortunatamente Per i libri Non ci serve La recipe Di Minecraft Normale Perché possiamo fare Vediamo un po' Sono pieno di merda Sì è vero È vero Sono pieno Abbastanzina pieno di merda Possiamo fare questo Grazie alla Tinker Construction Andiamo a vedere Book Voilà Paver E string Le string Forse saranno un problema Ne ho due Che culo C'è un altro modo Per craftare Le string Vediamo No Scusa Con il Cotton plant Ok E basta Di che mod È il cotton plant The light lance Vabbè Adesso ce le facciamo Bastare questi due Cosi E andiamo a metterci La carta Serve la carta Mio signore E voilà Un due Un due Un due Abbiamo due book Terrompo Airbook Ci mettiamo Un libricciolo Qui Giusto Ah no Vuole il book En vata pesca Si fa con book Una piuma E un ink sack Ce l'avrò Gli insack Gli insaccati Insackated Dai Sì che ce l'ho Ucciso A inizio puntata Infatti E 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 Cosa cazzo era quello Ci sarà un direwolf da qualche parte Si C'è un direwolf da qualche parte Io vorrei Io vorrei soltanto Dar da mangiare alle mie galline Non voglio dar da mangiare All'hopper Questo poco Ma sicuro Bravissime E adesso Vi uccido No Piripì Piripì E piripì Abbiamo vando Vediamo quante piume Ottimo Ah ma già ce l'avevo Che nabbo che sono Mmm No non voglio scendere Non voglio scendere Andiamo qui Allora piume Ok Instac No Che cos'è la piuma nera Bello E Un book Eccolo qua Ah non sono sovrapponibili Ok Ma bene Oppela Oppela Abbiamo fatto un proiettile Con Psych damage E Magic damage Gli diciamo Che cazzo ne so Dardo Dardo Incantato E abbiamo Il nostro Dardo Incantato E adesso Inizia Il bello Con l'Ars Magica Dove cazzo La facciamo Voi vi chiederete Marcus 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 Scusa Marcus Eh Mo ve lo spiego Se noi apriamo qui Ci dice Gli ingredienti Ammazza la roba Ok Book E un Non saprei Ah un Sto Stonesword E uno Spell Oh mio dio Cosa E uno Spell Parchment Uno spell Parchment Dovrebbe essere Questo qui Perfetto Ma come facciamo Per ottenere Il nostro Incantesimo Spell Compendium Vediamo un po' Componenti e Modifiche Non ci interessa Andiamo a Vedere Casting mode No Non ci interessa Per ora Blocks Craftire Altire Allora E' una Struttura Multiblocco Intanto Questo qui Questo qui è abbastanza facile Il video Home Dust Sarebbe 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 Dove L'abbè sto Eccolo qui Il video Umore Smeltato Mettiamolo Un po' Un po' 3 Ora 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 Come si torna indietro Così Andiamo a Vedere Che cos'è L'Aum Ah proprietà Chi se ne frega Shape Component Modify Mobs Dov'è il coso Meccaniche No Come si fa Come si fa Il cacchio Di fregno Come si fa Blocchi Grafter alta Inscription table L'abbiamo visto Tarmacolus Lacturn Ah sostanzialmente Il bastardo Non me lo dice Cioè Lo devo sapere io No Non è possibile Non è possibile Exition table L'abbiamo visto Lacturn Lo facciamo subito Visto che ci stiamo Dovrebbe avere ancora Degli slab Io giuro Che non sopporto Più ste regole maledette Quindi Facciamo Sto Che cos'è Jummy Furniture Facciamo questo Lettoio Eccolo qui Possiamo mettere Un libro sopra Molto bello Ma è davvero Molto bello Molto bello Come si Si prende Non posso Levarlo Ok Grazie Poi 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 Facciamo Della stone Dovrei averla Quo Qui Qua 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 Ce l'avevo Ho perso La mia stone Vabbè E' poco male C'è Brucio La cobblestone Sto Fini Tutto Li Mortaci Ma è un super lupo E mi da fuoco Giusto Non ho frecce Aspettate che vado A prendere le frecce Per uccidere il super lupo Eccole qua Non erano le frecce giuste Scusate Ecco qua le frecce giuste Super lupo Droppano così L'interessante Questi Pim Pim Che mi droppi Uh Bello Grazie Optimus Davvero carino Comunque mi piace La nostra zona E' un po' Un po' stretta Devo essere sincero Forse questa L'avrei fatta sottoterra Cos'era quel rumore Il rumore Orrebondo Ok Comunque Grazie Della tua stone Noi adesso Andiamo qui E ci mettiamo Sopra un vitreus Ma vaffanculo Ce l'avevo nell'inventario Feloce Santo Dio Aiutatevi Qualcuno mi aiuti Ok Andiamo a vedere Che cosa No Andiamo a vedere Che cos'altro Ci serve Lectern Everstone Is a magic Infusor Block Infusor No drop But rather Becoming Corporeal Forbring Fatale Che cazzo hai detto Vabbè Un blocco infuso Che può essere Ah ma questo qui serve Per altre cose Al momento Non ci interessa Ci interessa Il magic wall Eccolo qua Scusate Ho soffocato Un ruttolo Serve di nuovo Della stone A stasoltà ce l'ho Strano Grazie E voilà Abbiamo il magic wall Yeah Andiamo a Concludere Spero Sta cheacchio De coso Che cos'è Il magician war bench Un large number Un large number of item Item mage Tend to make One particular mage Gatto T-stable as multicraft Vabbè questa la facciamo successivamente Perché non ho assolutamente idea Di che cosa cacchio Possa servire Io non riesco mai a ricordare Che back sta qua sopra L'oculus L'abbiamo fatto Il viteum ore Ci dice che cos'è Ma onestamente Non me ne frega un cassius E' un blocco decorativo Questo qua Con 4 di stone Facciamo il Ciseled brick Grazie Il tarma Ci ringrazia E adesso sappiamo Come fare Le torce Che fanno Sono soltanto Un'altra cosa estetica Allora io davvero Non trovo Il cazzo Il cazzo di altare The essence Ok Comunque si aggiorna Type on next Forse dobbiamo Semplicemente leggere O Non lo so Fire spell In the crafting Ok l'ho fatto Sì Ma babà L'ho fatto Babà Spell component Yeah E allora Miei cari amici Dobbiamo andare Per forza Su 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 Mo Strutture Oh Finalmente Allora Vediamo un po' Come cacchio Funziona È strano È very strange Allora intanto Non ci possiamo permettere Nessun blocco di questi A parte Che cacchio è questo Di vetro Questo qui è Mi sa che è il più cazzone Vediamo un po' For the caps Allora For the structure Quindi i main blocks Questi qui Ston bricks Danno un più un effetto A sandstone Ci servono i bricks Non ce l'abbiamo Ehm Vabbè Facciamo questo Cioè mi viene Mi viene proprio Facile da pensare Ah vediamo se il blocco Call è meglio Del blocco Di redstone Io c'ho 9 per 5 Ok va bene Facciamo il blocco di redstone Per il resto Ci abbiamo tutto Abbiamo già fatto questo Già fatto questo Perfetto Allora Redstone Facciamo Miei cari 5 blocchi di redstone Poi Poi E poi E poi Ok Mi ho fatti 5 Giuro Poi vediamo quanti 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 Ci servono Allora l'hector ce l'abbiamo Ok Ah questo ti fa vedere Come si fa Ma hai fatto benissimo Ah ci servono le stair Però non voglio fare questo qui Voglio fare Vai circola Cambia Clicco Cambia Dai Fammi vedere quegli altri Oh eccolo qua No Sì Col blocco dei quartz Chi c'è là No Non posso Potrei Ma non posso Fidarmi di te Con i bricks Se no proprio no No davvero Lascia verde a canna Dai voglio vedere quella Con la redstone Oppure facciamo questa Con i brick E stiamo a pace Ma facciamo questa Con i brick Dai No di legno Di legno Allora Brick 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 Eccoli qua Cobblestone Eccola qua Quindi Dobbiamo fare Delle scale C'è chi scende C'è chi scale Ne facciamo ancora un pe Ho già finito Il vatte la pesca Quindi facciamo Com'era il tasto per No non volevo tirare Ok scusa Facciamo Dovrebbero bastare Spero Poi se non basteranno Patapim patapim patapem E non ho più La più pallida idea Di dove fare la cosa Adesso ci Ci sistemiamo Eccoci qua Allora Per me Si presta Anzi Ci apprestiamo A fare qualcosa Di davvero arduo Costruire qualcosa Di simmetrico Però Questo Questo libricino Ci facilita molto Sono 5x5 Con al centro Un cassiopea Allora Ho spostato tutto Qui ho riportato Le nostre cose Non so che cosa farci Sulla torre Datemi suggerimenti Perché Tutte le cose Che stiamo facendo Per le mod Sono molto 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 Larghe Dove sono i miei blocchi Di redstone Eccoli qua Allora Cerchiamo Di trovare Per Frodo E i suoi amici Non ho una pala Che strano Ce l'avevo poca Ah no L'ho rotta Per spianare tutto Giusto Bravo Minecraft Non mi deludere Allora Se io fossi questo Sarei di 5 Quindi potrei fare 1 2 3 4 Ma andrebbe Di girarci intorno Alle cose Quindi facciamo 5 1 2 3 4 5 Perfetto E poi 2 di qua Tutte le mod magiche Devono avere una struttura multiblocco In realtà tutte le mod Devono avere una struttura multiblocco Adesso sono felici Mi sa che è guarita Quella barra spaziatrice Vediamo Si Si Figo E rompiamo qui al centro E ci mettiamo il nostro Sblacco di Radstone Oh And the first level It's gone Ok Vediamo un po' Aspetta un attimo Lo posso fare di The cap And the main material Ok Si 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 Quindi io posso farlo Di qualsiasi cacchio Di cap Me ne frega Poi se non va del razio Dobbiamo fare due fregni così E due fregni così Dove qui mettiamo il magic wall Ma è bellissimo Anche qua Oppela Poi 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 E solo poi E solo per oggi Andiamo a vedere Perché mi ricordo Andiamo a vedere Che ci vuole Un terzo E uno slab E poi Aha Ok Quindi Un terzo No Il magic wall No Lo mettiamo anche qui E qui Quindi gli slab Me ne serviranno di più Ai Ai de duco Ai de sumo Comunque qui Va uno No No Mio caro Vai qui Ok Bravissimo Qui Qua Incomincia a prendere forma Andiamo a vedere Ah e poi No si non posso volare Giusto Hop Hop E hop E qua sopra Gli angoli ci va Questo Quindi le altri Gli altri slab Andranno qui Quindi mettiamo Questo qua Slab Questo qua Ok Ma qui In questo angoliscio Ah no Il terzo Il terzo Wool ci va Ok Fantastico E la prima volta Che ho costruito Sto fregno E' figo E' ben fatto Ottimo direi Ottimo direi Ho cotto Altra stone Perché sono Un Ivo avido Le mucche Mi fanno cacare sotto Grazie mucche Siete sempre gentili Come al solito E facciamo altri Stairs Vediamo se ci abbastano Dobbiamo fare Così No No Così Bravissimo Così Ma è maraviglioso Ah Cosa Cosa Ok Così E un altro stairs Di qui Giusto Giusto Piripipipi Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci mancano Tre cubozzi Ce li abbiamo Sì Il fregno Altare Altaroso Questo qua Quindi prendiamo Semplice cobblestone Stupida cobblestone Poi magari Lo upgradeo A seguito Nuove esplorazioni Tipo mi piacerebbe Farlo di nether brick E ci mettiamo questo Ok Dovremmo aver concluso Fammi da vedere Oddio mi sa che mi manca qualcosa No 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 Ci siamo Ci siamo Ci siamo Allora Prendiamo il lectern Poi facciamo una lava Eccola qua E ci manca Qualc'altra cosa Che mi sfugge Mi fai vedere Mi fai vedere Il lectern Per favore Ah la leva Sta di qua Quindi Nel lato opposto Ad altezza 2 Quindi se io metto La leva qui No aspetta Il lectern va qua Ok Sì E adesso Cosa Posso fare Per farti Tipo Capire che sei giusta Ci possiamo mettere questo Oh mio dio Sarnotto È giusto Dai Sì Dovrebbe andare È giusto Eh Sei giusto Come funziona Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Tadà No Che figo Ok Serviva lanciarci una blank rune Non lo sapevo Ah ok 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 E poi si attiva Guardate che figa Ti stavo aspettando Obi-Wan Luke Allora ci serve Un Vitium Dust Un Arrow Una Snowball Do cazzo la prendo a Snowball Ah e Qui Che palle Sto morando di fame Aio Mi mangio questo Ok thank you Allora ricominciamo Ricominciamo Il Vitium Dust Ce l'ho Ed è 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 Questo Ok Perfetto Quest'altro si usa in altre maniere No No Quindi ce l'ho Lo posso smeltare Lo posso smeltare tutto Perfetto Allora visto che qui C'ho una cesta che mi avanza Io quasi quasi Ci metto Qui Quello che mi serve Nell'ordine giusto Ehi tu Ciao Ciao Ok Una Arrow E ce l'ho Una Red Rune Non so assolutamente come si faccia Però andiamo a prendere Una Arrow Che dovremmo avere Qui Molto ottimo Poi facciamo Una Spada De Foco E le Rune Per le Rune Per le Rune Temo I miei cari amici Ci serva Il Rosso Andiamo quindi a prendere Il Rosso Ma non ci abbiamo Il Rosso Dov'è il Rosso Andiamo a dormire Parabam 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 Dai voglio l'incantesimo Voglio l'incantesimo E poi vado a una terra di mezzo Giuro Giuro Però prima devo anche Andare A esplorare Quel posto Laggiù che avevamo detto Allora Le Rose Red Red Le Violette Are Blue Do cazzo Stanno pure tu Oh grazie Forse stanno Laggiù Rose 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 Per me Che cazzo Hai fatto Li mortacci Tu Ammazza Sei un formine Na 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 Cioè Davvero Me l'ho tercazzo Do stai? Vieni qua Vieni qua Vieni qua Che ti rompo il culo No Ah sì 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 È giusto Senza avevo usato la spada sbagliata Rose 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 Vermiglio Rose Do cazzo state Rose Solo fiori gialli Solo fiori gialli Oh Porco Dove state Dove state Eccole Rose Rose Roline Rosse Ammazza quante No dai dimmi che c'ho un secchiello appresso Ce l'ho? No Pieno Ma cazzo Va bene Va molto bene Ok Dunkey Quante ne abbiamo? Ne abbiamo 18 pezzi Possiamo fare 18 rune Quindi yes Allora Del rosso E una runa Dovrebbe darci la red rune E fino a qui Non c'è piove Qui ci teniamo spazio Per la snowball E aggiungiamo L'herove Eccola qua Poi andiamo a vedere Che altro ci serve Un iron sword Un purple rune E un lapislazzoli Un libero Una stone sword E un spell Parchment Allora Lo spell Parchment Ce l'abbiamo qui Come si fa La runa porpora Runa No rune Rune porple Con il Questo qui Che si fa con il lapiscazzolo Oh meno male Allora Andiamo a prendere Il lapiscazzolo Permesso Che ce l'avevo io Va molto bene Va molto bene Quindi mettiamolo Questa Credo che vada A finire Questa qui Non ci serve Facciamo Una spada Di Ferrozzo Molto Ottimo Poi facciamo Una spada Di Come era Di wood Io E la mia Cazzo Di memoria Era di stone Facciamola di stone La mettiamo Qui Andiamo A rivedere Tutto quanto Iron sword Purple rune Lapislazzoli Ok Lapislazzoli Pim Qua Facciamo Il purple Ma purple 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 Facciamo il purple E poi Con la cobblestone Si fanno Le rune Bianche Eccole qua Una E abbiamo Una runa Porpora Polpola Quindi Ripetiamo Ci abbiamo Yes Yes No dobbiamo Prenderla Iron sword Tra la red E la purple Lapislazzoli Iron sword Tra la red E la purple Lapislazzoli Ci serve Un libro La spada di stone Quindi qui Il libro La spada di stone E qui Questo fregno Allora Per andare Per andare A prendere La cacchio Di super Cacchiola Io voglio Vedere Se abbiamo No Scusate Ok È ritornato Tutto Quanto Boat Che figata Perché non posso Crearle queste cose Comunque So qui Che c'è Una mod Quindi dovrò Andare a cercare Purtroppo Quell'oggettino Perché ci mette Delle barche Molto più fighe Ecco qua Le nostre barche Questa qui È la versione Più semplice Poi c'è la white ball Si fa con tre di queste La white hole E poi c'è l'oi Che si fa con tre di queste qua Adesso noi vogliamo Soltanto una barcaccia Quindi facciamo questa Ci prendiamo Un poco Di lana E Ci servirebbe Soltanto del legno Vediamo Dove l'abbiamo messo Quindi Quindi Facciamo Stick Legno E lana Non funziona Perché? Perché al contrario Perché non c'entra proprio niente Ho fatto tutt'altro Ma che cazzo? Allora Un'altra barca Per favore Grazie 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 Un'altra barca ancora E un'altra barca ancora Era così Ragazzi Voilà E voilà Abbiamo la nostra barcaccia La pump La pump Andiamo No Mi munisco di Di Crossbow Dov'è il mio crossbow? Eccolo qui Queste cose le lasciamo Pi 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 No questa la prendo Vorrei Anche le frecce Importantissime Direi Il cibo me lo tengo e Volevo scaricare questo Metti che ci torni utile Lo lascio Dove ho io? Ah è bucato qua sotto giusto Ecco qua Ok carichiamo Un freccio e andiamo a mettere la nostra barchetta Tadam 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 Pim Eccola qua Guardate che comodità Questa qui non si dovrebbe rompere Ah Che meraviglia C'è anche una chest Una comoda chest Tadam 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 Ma dove sto andando soprattutto? Ah fatemi vedere Devo andare No no gira 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 Di qua E poi di qua Ok È un po' lenta questa eh Però vabbè Dice un wolf Ciao wolf Come stai? Tutto bene? No Scusa Scusa Me do Arigato Ok Dov'è la neve? Ne abbiamo da viaggiare Andiamo Oh che bello Navigore Me ne fischio se c'è neve Se c'è Signori Siamo arrivati Allora prendiamo un po' di neve Ho perso la pala Vabbè direi che bastano Quindi signori Io mi rifaccio il viaggio all'indietro Guardate che bella Ci siamo bloccati signore Guardate che bella la vela Mi piace tantissimo È un po' lenta Mi sa che off camera Mi faccio quell'altra Ok è davvero una bella vista Del solito Moscissimo Minecraft Bello 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 Mi piace Eccoci a casa La nostra barchetta l'ho parcheggiata là Poi magari farò un molo Signore e signori Facciamo sto benedetto libro E poi abbiamo tutto Abbiamo tutto Abbiamo tutto Tutututututu Tututututu Ricapitolando Blank rune ce l'abbiamo messa Avvdium dust Arrow Ok snowball Ok red rune Ok iron sword Ok people Blwill book Stonesword e un Spell Parchment Ragazzi Pada bam Prendiamo tutte quante queste cosine Ci mettiamo qui e facciamo Perfetto Perfetto Woohoo Ma è bellissimo Sta funzionando Si si sta Ciappando tutte le mie risorse Io non ho più niente Perché esco da Minecraft Ma stone Eh signori e signori Il gran finale Bellissimo Ah possiamo scegliere il proiettile Allora C'è l'icona Allora io voglio Voglio il dardo incantato Va benissimo Va benissimo Come faccio a tirarlo? Ovvio a dire come funziona Non posso tirarlo Perché? Adesso ce l'ho Non funziona Forse devo soltanto sulle entità Il mio dardo è rotto Non ho più pallida idea di come funzioni Ragazzi No non credo Forse non ho mana È plausibile che io non abbia mana Andiamo a leggere che cosa dice il nostro book Signori è proprio il caso di dire che ho capito dov'era l'arcano Perché? 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 Andando qui ho visto che c'erano delle opzioni E ti diceva anche Visualizza i valori numerici Ora questa qui la levo Ok Vedete in basso a destra c'è scritto Mana 74 su 104 Guardate quanto consumava questo incantesimo 270 Era impossibile per me castarlo Quindi sono fatto il mio dardo di forza Che è sostanzialmente Molto più facile da fare Perché ha soltanto il physic damage Eccolo qua Purtroppo ne posso tirare soltanto uno Non so se forse facendo soltanto il dardo Ci sarebbe stata qualche differenza Però gli effetti grafici sono davvero bellissimi Sanné questo Che sembra tipo una scureggia al contrario Adesso siamo all'80% di mana Sono riuscito prima ad uccidere una picura E mi ha dato un livello Infatti sono al secondo E ho guadagnato 4 mana Però li recuperiamo davvero davvero molto lentamente Ho visto che c'è il mana cake Eccolo qua Però si fa con i desert nova Per i desert nova dovremo andare all'esplorazio Non che non mi dispiacerebbe Però dobbiamo andare già di là Quindi per ora aspettiamo un pochettino Intanto qui ho fatto un po' più di gallina Aspettando 90 siamo pronti O facciamo la pecora O facciamo le galline O facciamo la pecora Facciamo la pecora Vedete mi ha dato Ah mi ha dato il terzo livello E il mana è aumentato Non volevo ucciderti Non volevo ucciderti Pecora mi dispiace Sono stato vittima delle circostanze Non so perché me la fa ritirare Forse perché ho fatto il level up No No Vedete ho lisciato Non mi ha dato il livello E adesso sto a 22 E devo sostanzialmente Reccare mana Bene ragazzotti Direi 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 Che stiamo Siamo fighi C'è cazzo Figo Siamo quasi dei Gandalf Ovviamente adesso siamo dei Gandalf apprendisti Quando saremo un poco più potenti Ci addentreremo nel mondo del Lord of the Ring Anzi sì Il Lord of the Ring Mod Che non è in questa dimensione Però in questa dimensione comunque c'è la Chocolate Quest C'è la Better Dungeon E c'è la Farmland Quella degli Enderman Quindi comunque Comunque anche qui In questo mondo scoperto Ci riserveremo delle sorprese Io Ovviamente ex però Off camera Perché altrimenti fa vedere tutti i casting Di tutti gli incantesimi Normalmente Però quando ci sarà qualcosa di figo Da farvi vedere Tipo adesso C'ho da spendere un punto Che cosa faccio Preso questo E quindi Niente Mi sono sbagliato Posso tornare indietro? No Va bene Ciao Mi si è sbloccato questo Che cos'è? Talents Mana Regen Cazzo prendiamoci Nel Mana Regen Cacchio E questo Mana Regen 2 Però è verde Non ho talenti verdi Affinity Gains Boost Non so che cazzo sei Color Boh E questo è touch È touch screen E questa è difesa Lip O Regeneration Ma prendiamola poi Vedremo Quindi adesso dovrei Rigenerare più velocemente Vediamo Non si direbbe tanto Eh però Signori Io sono Marcus Grone Spero che questa puntata Vi sia piaciuta Noi nella prossima puntata Andiamo Qui Bella per voi Ciao 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 Ciao